La mossa nero, gruppi forti e gruppi deboli, gruppo forte, poi gruppo medio forte, questa mossa sarebbe stata più forte, stessa qui sono abbastanza parecchi, sono somiglianti, probabilmente bianco se vuole attaccare vive, se bianco si attacca qui probabilmente vive, anzi sicuramente vive. C'è solo l'imbarazzo della scelta, per nero se chiuderlo e fargli fare il gruppo qui, chiudere di qua e farlo collegare e che si piega di questa alla base e si è rinforzato anche in tutti i qui, in direttamente, però tocca a nero. Ecco nero, potete vedere che mi stava attento perché è una mossa con un'invasione, quindi bianco, è una mossa strategicamente importante, nel senso che lo porta a insistere su tutto questo. Sì, però la situazione è simmetrica, secondo me. In realtà è una mossa così di solito bianco si ritorce contro bianco, perché se nero decide di chiuderlo, di qua, bene, neanche potrebbe anche giocare quello qua, che va così, così. Questa fa sì che nero non possa tagliare, in assenza di questa, nero potrebbe giocare qui, e taglia. E questo non funziona. Certo. se non cattura questa, il bianco non deve tornare indietro. se non cattura questa, se non cattura questa, se non cattura questa. se non cattura questa, se non cattura questa, se non cattura questa. Diciamo che in ogni caso, un po' queste ne risentano, perché adesso qui, al qui sotto, il nero potrebbe fare un'invasione da questa parte. Vabbè, quindi facciamo questa stessa parte. Sì. se non cattura, avessi fatto dare questo attaglio, qui tutto chiudo. Mentre giocando quest'altra, il bianco viene finito qui. Adesso, non vedo cifre queste, non si chiudere. però, così, queste sono più debole. Cioè, è la stessa forma che abbiamo visto prima. Questa le raccordiamo un po'. Ma non così tanto, insomma. Cioè, qui c'è l'invasione. Questa è un'invasione che attacca. Quindi è una buona invasione. Non è solo a togliere i punti a calcio di un po' debole. Mi sono creato un po' debole, ma anche il bianco. Cioè, questo muro ti dà un sacco di forza su questo lato, che per il momento è ingiocato. Quindi forse per il nero sarebbe il caso giocare. Forse magari non fino a qua. Allora, se non c'è nessun bianco forno, non c'è. Quelli di nero stanno bene. L'unico di nero è questo qui, che, ok, non è immediatamente attaccabile, però il bianco potrebbe giocare da queste parti e togliergli la base facendo dei punti. Per cui effettivamente questa è una mossa che fa punti, fa la base e un giorno potrebbe anche servire, non so magari, a farla servire da una cosa del genere, a creare un piccolo moio qua. Quindi vale almeno due cose. Consolidare il gruppo e fare i punti. e poi magari ci sarà anche un investimento in futuro per farne degli altri. Per cui sì, la mossa è questa. Ed è, quando capita una situazione di questo genere in partita con un nuovo gioco, è fondamentale per entrambi i giocatori andare a giocare. O qui, o qui. Per bianco di solito è meglio in terza linea. perché magari poi nero contraattacca. Per nero invece di solito è meglio in capo in alto. Sì, perché se anche bianco viene sopra. Esatto. Quindi queste forse non si capisce bene a cosa servono. No. Sono servite a farciare dei punti a bianco qui, ma nero. Ma tra l'altro l'avevo letto da qualche parte, è che da un muro di top pietre era sicura un'estensione pari a... No, la sua altezza più 1. Esatto. Una roba di pietre. Questo si può dire che sia alto 1,2,3,4,5. Probabilmente si parte da qua. Il baricentro qui. Quindi si può estendere di 6. Quindi si estende di 6. 1,2,3,4,5,6. Quindi magari anche fino a qui. Bene.